Grazie Presidente, questa mozione, come ha brevemente descritto Pocanzi, interviene in un ambito che ci auguriamo sia noto a tutti, ovvero in fase di dichiarazione dei redditi, la possibilità per le persone, e non per le aziende, ma per le persone, di devolvere il 5 per mille a fini sociali. Nata nel 2006, circa questa misura, questa possibilità, nella quale si lascia la possibilità al cittadino di indirizzare la spesa pubblica, tra le varie opzioni prevede la possibilità anche di devolvere questa aliquota al comune di residenza per le spese sociali. La necessità intravista dalla maggioranza per questa mozione nasce da due considerazioni. La prima è che di fatto c'è una certa ignoranza, nel senso che si ignora questa possibilità da parte dei cittadini, dall'altra, che conferma questa ipotesi, il trend della donazione del 5 per mille da 4-5 anni a questa parte è in diminuzione. Quindi siamo passati da circa oltre mezzo milione di euro a poco più di 400 mila euro nell'ultimo anno. Quindi con questa mozione si intende chiedere una campagna di informazione e di comunicazione verso i cittadini per sensibilizzarli verso questa opzione praticabile che ovviamente potrebbe consentire a Roma Capitale di incrementare i fondi per la spesa del sociale. Grazie.